Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. Il lupo è un mammifero appartenente alla famiglia dei canidi. Noto per il suo comportamento sociale e per vivere in branchi. Questo predatore è simbolo di intelligenza, libertà e istinto. La sua figura è avvolta da miti e leggende in diverse culture, rappresentando spesso forza e astuzia. Hanno una lunghezza che varia tra i 100 e i 130 cm, con un peso che oscilla dai 30 ai 75 kg. La loro aspettativa di vita in natura può raggiungere i 16 anni. Presentano un folto mantello che può variare dal grigio al bianco, dal marrone al nero, utile per camuffarsi nell'ambiente e proteggersi dalle temperature fredde. I lupi sono carnivori che si nutrono principalmente di ungulati, come cervi, alci e cinghiali, ma non disdegnano piccoli mammiferi, uccelli e persino pesci, a seconda della disponibilità nel loro habitat. Inoltre, possono ricorrere alla carcassa di animali morti se necessario. Nonostante la loro posizione al vertice della catena alimentare, i lupi possono essere minacciati da altri predatori come orsi e tigri, oltre che dall'uomo, attraverso la caccia e la perdita dell'habitat. I lupi sono diffusi in una vasta gamma di habitat, inclusi foreste, tundra e montagne in diverse parti del mondo, principalmente nell'emisfero settentrionale. La loro capacità di adattamento li ha resi capaci di sopravvivere in diversi ambienti, dalla taiga russa alle regioni boschive dell'America del Nord e le zone montuose dell'Asia. La loro presenza è meno frequente nelle zone densamente popolate e nelle grandi distese desertiche. diondare 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 Grazie a tutti Grazie a tutti